Musica Ok ragazzi mi raccomando prima di incominciare a vedere il video scrivete qua sotto nei commenti Hashtag IMAI per un video tag che vuole fare nico Bene io vi lascio buona visione Ciao a tutti i cubetti di Ubios siamo qui per questa nuova puntata di Minecraft survival game Siamo su Breezyland oh mio dio panico Allora siamo su survival game solo quindi GG quindi non potremo in teoria non troveremo team Teoria? Teoria? Quindi andiamo subito al mio cestro non so se è il cestro di nico però vabbè dai Tento di fare un po' le cose alla nico quindi ciao a tutti i cubetti io sono nico E come andate vedendo la planimetria di questa mappa è molto molto triangolare Anche se Minecraft è un gioco a cubetti però sono metti dettagli Comunque c'è stato un commento che mi ha abbastanza appassionato Oh mio dio ciao Un commento che mi ha fatto ridere Nel prossimo video parla come TheDunker17 Quindi ho detto ok Quindi in pratica io guarderei la bellissima skin di questo tipo però non voglio ucciderlo perché li voglio bene e comunque se mi uccide dirò oh mio dio come hai potuto uccidermi Allora non ce la faccio se non commentare la nico io devo commentare la joan quindi questo qua già marogior ma giuro tu cazzo Ok basta parlare napoletano non siamo capaci Allora sicuramente lui andrà al cestro te ne sono praticamente sicuro Ehm Ok mi andrà al cestro te ok allora un babbeo Cioè se io vado da dietro ma è un babbeo questo È un babbeo ma dai Ma vedi che sto andando al cestro perché tu mi vieni praticamente dietro Dico è proprio un lizzino pvp Guarda facciamo tech Tech E dato che ho già la spada Sorry Ma mi tocca prendere Primo questo qua e puff Vedi Tech Allora io ho la Ok ho la 1.7 Allora Andiamo qua E perché sono stato Ah ok perché non ho contento la liana Perché in teoria dovevo spawnare Cioè dovevo spuntare da qua Però What the hell Ah forse mi sono Ah ok mi sono fermato solamente io Vabbè dai GG Dai vediamo di me c'è appunto questa partita qui perché Con la Con la Insomma Dopo gli SG solo è abbastanza Non dico semplice perché Sto già registrando un po' di tempo Perché sto incontrando dei giocatori molto molto forti Che stanno utilizzando Stanno utilizzare benissimo tutte le secondarie E quindi non posso dire niente perché realtà non citano sicuramente Perché non citavano erano solamente usare Eh sapevano usare tutte le secondarie Benissimo la rod del FNS Wow Dei veri giocatori Quindi sono contento di essere Stato ucciso Da dei giocatori che non citano ma Che sono bravi Quindi mi spingono sempre di più a migliorare Comunque Detto questo Andiamo subito al Li Come vedete no Quello non sembra un team Effettamente non sembra un team E quindi andiamo a cleanappare Perché il SG clean up Non è ancora stato Inventato Il SG non si può cleanappare Il SG non si può cleanappare È un po' strano effettivamente Però Va Bene Comunque Detto questo Mi suona il cellulare così A cazzo Perché è Nico Che mi Dà un messaggio Quindi Nico Sei tu In un video di Nico Di Giannico Gico 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 Il nuovo Il nuovo Il nuovo Nico Gico Tu stai gostando però Sorry Vabbè Gosterai Sorry Allora Vediamo così E faccio Puff 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 Aspetta Andiamoci a farci la spagna in avanti Perché non si sa mai Perché Sti bastardini Possono arrivare lì Con le spade in titanio Nuovo Nuovo aggiornamento Fanno lì con le spagne in titanio E tu sei lì che dici Oh mio dio Cosa posso fare Muoio Perché Non ho nulla da fare Allora Comunque Sono un po' tutti full ferro Effettivamente Cosa non molto bella Quindi diciamo così Allora Oh mio dio Fetterpi a cazzo Tanto per vedere un po' Ok Sono tutti lì Ok Sono tutti lì Ok Siamo resti in cinque Quindi in pratica Io prendo quello lì Con nulla Non ho neanche una barca Quindi non faccio un cazzo Aspetto solamente che Questo tipozzo qui Venga appunto Ok Non sembra che stia Non sappia usare tantissimo Le secondarie Ok Il player è molto molto semplice Me lo penso E dato che Comunque io ho ping di Slash ping Io pingo 77 Senza 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 What the fast Perché Alcuni Dico no Tu usi what the fast No Io non so neanche come Si utilizza comunque Quel programma E non ho neanche voglia Sinceramente di Saper utilizzare Ok Te stai crashando Oh mio dio Allora C'è un po' così Gap all tattica Il tizio qua Quindi Facciamo una rodata Ok Questo l'ho ucciso Tanto Nick Mi sta chiamando Sul cellulare Mannai alla botana Ok Ora siamo sul ferro Come la ragazza Come la tipina Basta tremare Allora Andiamo a vedere qua Recuperiamo vita Dove è andato a finire L'altro Dove è Non lo sappiamo F3 più A Non lo faccio troppo Perché Ultimamente sto crashando Quando faccio F3 più A Cosa Molto molto improv È vero Anzi effettivamente Crash Non di connessione Ma non lo so Cosa succede Forse Ho dedicato Pochissimi giga Ho dedicato un giga A minecraft Quindi boh Allora Vediamo un po' FNS tattico Non è piazzato Ok Però mi stai facendo Abbastanza paura amico Molta molta paura Tu e l'altro Deve andare insieme Allì Alla tipozza Allora Ce l'ho nel finito Il silo Ok Casomai li faccio Fuori così Però io mi Metto Allora Aspetta un attimo Ok È andato nella Cosa Ah wow Pi we never die No non citta Di buono Sto facendo la strife Quindi sicuramente Non citta A meno questa cosa Beh diciamo Ok nessuno citta Dai Sembrano Cheater apparenti Come dico sempre Mai accusare di Hack quando una persona Non citta Solamente perché Tira degli hit strani Massimo sarà Un pochettino il ping Che il vostro ping Sta abbassando E loro sta alzando Proprio Dei casi assurdi Così 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 Questo Come sta Beccando con le frecce Mi sta cercando Di beccare con le frecce Ma non ci riesce Ho tirato tutti i streff E tutti scappano Va bene Mi sento molto frenzonato In questo momento Allora Non posso andare Nell'altro Che posso andare E' morta E' morta E' morta E' morta Quindi rimaniamo Io E Uca Cazza Sì Ci faccio vincere Anche questa partita Per Nico Quindi Appunto Perché sono sul canale Di Nico Arriviamo a minimo 50 like Per il prossimo Appisodio Consigliatemi sempre Dei topic Qua sotto Nei commenti Non ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Copetti